Ragazzi, buonasera a tutti, bentornati sul canale. Allora, prima di partire ragazzi il classico invito è quello di iscriversi sotto, like, commentate, condividete. Allora, siamo qui ragazzi nel post partita di Empoli Spalla, è finita veramente da 3-4 minuti la partita. Ragazzi, vinciamo 2-1 in casa contro la Spalla, ragazzi, veramente una partita stragiocata bene da parte appunto dell'Empoli, ragazzi, veramente secondo me la miglior partita sicuramente di questa stagione, ragazzi, ma anche secondo me, io direi tranquillamente di tutto l'anno. E ragazzi, niente, la vinciamo 2-1, andiamo in vantaggio, in vantaggio ci va appunto la Spalla al 33 del primo treppo con Esposito su un errore appunto della difesa dell'Empoli. Poi, ragazzi, nella ripresa al 63 arriva il gol di Bairami con un bel piatto su assist di Maldinelli su cross e poi, ragazzi, arriva all'83, il gol che decide la partita del bomber Leonardo Mancuso, ragazzi, che con un pallone al limite dell'area, un gran destro, ragazzi, a girare ben piazzato che batte il portiere della Spalla a Tiam e questo è il gol che decide appunto la partita, ragazzi, quindi poi, insomma, la portiamo a termine, vinciamo 2-1, ragazzi, e allora praticamente, diciamo, i primi, diciamo così, i primi 20-20 minuti, secondo me, abbiamo giocato, ragazzi, un buon calcio, bel possesso palla, ragazzi, i primi 20-25 minuti abbiamo fatto girare bene questa palla, abbiamo messo appunto delle belle palle appunto per gli attaccanti, la Spalla nei primi minuti, ragazzi, aveva sinceramente fatto poco, poi arriva, ragazzi, su un errore dell'Empoli, in un disimpegno, un rimpallo appunto con un attaccante della Spalla e con Nicolau che tocca questo pallone, il pallone appunto diventa buono per Castro che scarica al centro, un pallone appunto per Esposito che calcia, e con questa traiettoria in Ganna e Brignoli e la Spalla appunto va in vantaggio con questo colpo, ragazzi, subito dopo, arriva un'occasione clamorosa per Mancuso che, dopo una conclusione, ragazzi, sulla spinta del portiere Tiam non riesce a mettere dentro praticamente da mezzo metro, la Spalla clamorosamente sul fondo, poi, ragazzi, sulla ripartenza, nuova occasione per la Spalla, con un tiro è bravissimo, Brignoli con i piedi, poi, ragazzi, c'è un disimpegno sbiliato del portiere della Spalla che praticamente cede il pallone a Bairami, che praticamente calcia, però questo pallone è centrale, viene respinto, poi, ragazzi, nell'azione successiva è ancora bravissimo il portiere della Spalla su un diagonale di Mancuso che era destinato praticamente dentro, grande parola ancora di Tiam, questo portiere, ragazzi, giocato veramente bene, ha fatto almeno 3-4 interventi buoni, ragazzi, e così praticamente finisce il primo tempo, poi, ragazzi, nella ripresa esce Bairami per Moreo, poi entra la mantia, giochiamo secondo me un buon secondo tempo, i primi 15 minuti, ragazzi, non benissimo, comunque teniamo sempre appunto il pallone, non si rischia niente, poi, ragazzi, entra Moreo e come sempre cambia veramente il volto della partita, perché praticamente tiene palla, fa salire tutti, ragazzi, e c'è praticamente, arriva appunto al 66esimo il gol di Bairami su assist di Bandinelli, grande cross al volo Bairami di piatto mette dentro, poi, ragazzi, dopo, praticamente, c'è un'altra grande occasione per il nuovo entrato Moreo che raccoglie di tacco, ragazzi, un cross bellissimo e qui Chiamp compre veramente un paratone con la mano, va a deviare il colpo di tacco di Moreo, poi, ragazzi, c'è un'altra occasione appunto per Mancuso, dopo che, ragazzi, finalmente arriva il gol che decide la partita, c'è Moreo che praticamente entra in possesso di questa palla, la cede ad ass sulla destra, mette subito al centro per Bairami a limite dell'area, a gran destro, a girare non potentissimo, veramente angolato, gol del 2-1, ragazzi, poi da lì, diciamo che teniamo bene questo pallone, ci difendiamo bene, la spada alla fine ha anche un paio di palloni veramente molto pericolosi, comunque, dietro riusciamo a reggere bene, insomma, e andiamo, ragazzi, a vincere questa partita e, ragazzi, che dire, insomma, qui in quattro partite, tre vittorie, un pareggio, ragazzi, veramente non è niente male, stasera veramente, come ho detto, la partita è veramente più bella di questo campionato, di questo avvio e, sinceramente, ragazzi, questa è la scuola che vogliamo vedere, con la fame di vittoria, che ha voglia, appunto, di aggredire l'avversario, ha voglia di vincere, che sul, appunto, sul 2-1 non si accontenta e va avanti e cerca, appunto, anche il terzo gol, ragazzi, veramente stasera tutti bene, e, secondo me, non c'è giocatori insufficienti, ragazzi, allora, dietro, secondo me, tutti bene, super partita di Romagnoli, che, secondo me, veramente, se ha giocato un partitore, non ha sbagliato praticamente niente, ragazzi, Romagnoli, veramente, ha fatto tutto quello che doveva fare, ha contestato bene, ha difeso bene, la palla, ha sbrogliato in diverse situazioni di testa, sempre presente, non ha mai buttato via la palla, ragazzi, veramente, Romagnoli, il migliore in campo, secondo me, poi, ragazzi, lì nel mezzo al centro campo, secondo me, tutti bene, Sturaz, grande, grande possesso, palla, faceva girare molto bene questo pallone, Bandinelli, ragazzi, molto bene, anche lui ha tenuto, insomma, palla, l'ha giocata bene, ha avuto l'occasione, il tiro che è andato, appunto, sul palo e poi sulla respinta, appunto, Mancuso non è riuscito a rivalire in gol, Ricci, nel primo tempo, anche lui non ha fatto male, ha, insomma, ha fatto girare bene questa palla, ha aggredito bene, poi, ragazzi, lì, davanti nel primo tempo con Benami, con Mancuso e con Olivieri, abbiamo, secondo me, fatto bene, Olivieri ha avuto, anche lui, un paio di palloni che poteva gestire meglio, comunque, ragazzi, ha fatto bene anche lui, ha avuto, appunto, un paio d'occasione, anche lui, Mancuso, come sempre, ragazzi, è sempre pronto a fare paura, Bairami, sì, benino, però meglio nella seconda parte, ragazzi, che dire, questa squadra c'è poco da fare, insomma, sta facendo, secondo me, più di quello, insomma, che tutti si aspettavano, ragazzi, perché io, onestamente, dopo quattro giornate non mi aspettavo di vedere questa squadra, così, ragazzi, che tiene bene il campo, che stasera, finalmente, ragazzi, come avevo letto, doveva mettere dei cross fatti bene stasera, ragazzi, veramente, abbiamo messo, sia dalla sinistra che dalla destra, veramente, dei bellissimi cross, ragazzi, dei bellissimi cross, e si è visto, ragazzi, questa squadra qui, io non so dove può arrivare, ragazzi, però, fatto sta che è una squadra che, dopo quattro partite, vince, vince con Frosinone, pareggia, comunque, con il Monza, va a vincere a Pescara, vince, ragazzi, contro la Spal, io non so dove, dove, dove può arrivare questa squadra, ragazzi, però io, come ho già detto, dobbiamo pensare alla singola partita, ragazzi, se noi, come abbiamo visto stasera, pensiamo alla singola partita e non all'obiettivo, secondo me, ragazzi, questa squadra può veramente dare del filo da torcere a tutti, a tutti, se non sbaglio, siamo primi con 10 punti insieme al Cittadella, però questo, ovviamente, ragazzi, come ho detto, secondo me, non conta niente, questa è veramente, è l'ultima cosa, e, un altro, una notte di stasera, sinceramente, non mi è piaciuto molto l'arbitraggio, appunto, di Pasqua, che, secondo me, nel primo tempo voleva un po' far giocare troppo, poi, ragazzi, la partita, diciamo, che sia un po' incattivita, secondo me, poteva fiscare un po' di più, secondo me, perlomeno, almeno, 3-4 gialli nel primo tempo ci stavano tutti, ha deciso, appunto, di fiscare così, secondo me, appunto, qualche fallo c'era, però, comunque, ragazzi, a parte questo, non c'è da segnalare altro, e, ragazzi, io che vi devo dire, sinceramente, a me stasera questa scuola mi è piaciuta, ma tanto, 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 ragazzi, e considerando, appunto, anche l'impegno, appunto, ravvicinato di sabato con il Pescara, e considerando, appunto, che hanno giocato praticamente quasi tutti gli stessi, insomma, si è attretto bene anche fisicamente, si vede, insomma, che fisicamente, insomma, stiamo bene, e su quello, ragazzi, mi sembra che non ci sia dubbio, questa scuola veramente ha cambiato veramente tutto, ma soprattutto, ragazzi, sulla testa, secondo me, che è cambiata parecchio, c'è poco da dire, ragazzi, adesso altri 3-4 giorni di pausa, e poi, ragazzi, ci sarà il derby con il Pisa, ragazzi, sarà un'altra super partita, e vedremo, ragazzi, anche qui cosa succederà, però io, sinceramente, insomma, non... insomma, sinceramente, non mi preoccupo, ragazzi, se la scuola riesce a tenere questo ritmo, questo possesso, questo palleggio, questa qualità dei singoli, io non mi preoccupo, ragazzi, poi, ovviamente, le difficoltà sicuramente ci saranno, prima o poi, però, ragazzi, sinceramente, sono fiducioso, e, insomma, non mi preoccupo di niente, ecco, sinceramente. Quindi, ragazzi, io direi che per il momento è tutto, con questo post partita di Empoli Spal, vinciamo, come detto, 2-1, ragazzi, per il momento è tutto, mi raccomando, iscrivetevi sotto, c'è il pulsante iscriviti, campanella, che è fondamentale, like, commentate, condividete, noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, un saluto a tutti, sempre forza Empoli, ciao!